In Sea of Thieves ogni stagione regala ai giocatori tre mesi di nuove funzionalità, eventi, aggiornamenti e un nuovo sistema di progressione fama, dando accesso a nuove ricompense. E mentre il tuo viaggio per diventare pirata leggendario dipende ancora dalla tua reputazione con le compagnie commerciali, guadagnare fama durante la stagione dipenderà dal tuo stile di vita da pirata, sbloccando appositi obiettivi. Tutte le gesta che compirai su Sea of Thieves ti aiuteranno ad avanzare attraverso la stagione, dal navigare verso le nuove isole, al combattere scheletri minacciosi con la tua ciurma, fino a scavare preziosi bottini. Guadagnerai fama per le avventure che intraprenderai e le sfide che porterai a termine, ed esse ti aiuteranno ad avanzare attraverso i centi livelli disponibili in ogni stagione. Man mano che avanzi di livello sbloccherai fantastiche ricompense, che comprendono oro, dobloni e skin per il tuo pirata e la tua nave. Inoltre i pirati leggendari potranno sbloccare le skin esclusive, dando loro ampie opportunità di imporre il loro status di pirata leggendario su tutti gli altri. Se sei desideroso di avanzare ancora più velocemente, potrai farlo superando delle prove. Le prove sono una serie di varie sfide all'interno di ogni stagione, a cui tutti i pirati potranno partecipare. Ti daranno tantissime nuove avventure a cui potrai prendere parte, piene di opportunità per metterti alla prova come maestro dei mari. Inoltre potrai seguire il tuo progresso della stagione dal nuovo menu dei pirati. Qui sarai in grado di vedere il tuo livello, gli oggetti da sbloccare e le ricompense future, oltre alle informazioni sulle prove disponibili. Ogni stagione di Sea of Thieves durerà circa tre mesi, durante i quali continueremo a rilasciare nuovi eventi, gesta giornaliere e ricompense regolari. In questo modo ogni pirata ha sempre qualcosa da fare. Ogni stagione porterà anche nuovi aggiornamenti al gioco, con cambiamenti e variazioni, nuove aggiunti all'emporio dei pirati e nuove funzionalità, eventi e viaggi. Tutti i giocatori, indipendentemente dal loro livello di abilità, stile di gioco o dimensioni della ciurma, potranno godersi le stagioni in Sea of Thieves e sbloccare le ricompense di tutti e cento i livelli gratis. Semplicemente gioca, guadagna fama e saccheggia le ricompense. E per tutti quei pirati che vogliono qualcosa in più per le loro scalmanaterie, potrete acquistare l'abbonamento del Plunder Pass. Questa aggiunta vi darà accesso ad ogni stagione a 11 ricompense presso l'emporio dei pirati, che includerà nuovi oggetti mai visti prima. Le skin che debutteranno con il Plunder Pass resteranno esclusive durante la stagione, oppure potrete acquistarle separatamente presso l'emporio dei pirati. Il Plunder Pass è disponibile per l'acquisto in qualsiasi momento della stagione e qualsiasi ricompensa per il quale hai guadagnato fama a sufficienza sarà da subito accessibile. Quindi preparati a sperimentare le tue nuove avventure in un modo completamente nuovo e godetevi le ricompense vivendo una vita da pirata mentre iniziamo un nuovo viaggio con le stagioni di Sea of Thieves. Grazie a tutti! Grazie a tutti!